Ciao, buongiorno, in questo video parliamo del perché ti senti giù o perché magari alcune delle tue persone ogni tanto si sentono giù. Non so se ti è mai capitato, se ti è mai capitato alza la mano, scrivi sotto questo video che tu, ok, ma lasciamo stare te, alcune persone del tuo team ti scrivono che sono giù o cose anche un po' più forti perché magari non hanno fatto clienti nuovi, è un po' che non fanno incarichiati o i loro incaricati non lavorano. Te è mai capitato questo? Se sei nel nostro settore sicuramente sì, sappi che è una costante. Da dove deriva questa cosa? Deriva dal fatto che le persone chiaramente si aspettano, noi in generale spesso ci aspettiamo di avere, di dover ottenere dei risultati più alti per l'impegno magari profuso. E questa è la frustrazione. Quando uno è particolarmente giù, la ragione nel business, ma anche nella vita in generale, la ragione è che non riesce a vedere delle possibili soluzioni al problema. È una cosa vera il fatto che non ci sono soluzioni? C'è un detto che dice che non c'è soluzione a una cosa sola, ok? Solo alla morte sappiamo benissimo che non c'è soluzioni. Quindi le soluzioni ci sono, ma bisogna focalizzarsi un attimo per andarla a trovare. Come possiamo andarla a trovare? Come trovare le soluzioni? La prima cosa è dentro di te. Una cosa che io assolutamente consiglio è quella di spegnere il cellulare. Molto spesso ci troviamo a guardare notizie, a scrollare i social, a rispondere in modo compulsivo a dei messaggi o a guardare altre cose, ok? Che la nostra mente si annebbia completamente e non riusciamo a pensare alle soluzioni. Ma io ti consiglio di carta e penna, ok? Carta e penna, scrivere in un quaderno quali sono i problemi e poi quali possono essere le possibili soluzioni. Quindi la prima soluzione è dentro di te. Cerca di fare un ragionamento libero, lucido, magari anche cambiando posto. Io magari sto spesso dentro il mio ufficio, ma se mi metto in macchina, vado in giardino, vado nell'altra... Il cambiamento di posto può farmi aprire qualcosa nella mia mente. Il punto numero due è un confronto, quindi uno scambio di opinioni con altre persone. Nel nostro settore siamo fortunati ad avere a disposizione qualcuno che guadagna dai consigli che ci dà. Quindi siamo abbastanza fortunati. Quindi le nostre upline, ma a prescindere da questo ci possono essere mentori, libri, consulenti, corse. Le idee possono venire, le possibili soluzioni, le idee alle possibili soluzioni ai problemi possono venire anche da fonti esterne a noi. Punto numero tre, l'individuazione delle azioni che possiamo mettere in atto per risolvere il problema. Quindi non facciamo clienti, ok, quali sono... cosa ci manca, cos'è che magari potremmo fare di diverso in aggiunta? Quindi pubblicazioni diverse, modi diversi di iniziare la chat, quali sono le azioni diverse rispetto a quelle che facciamo? Fai queste riflessioni e potrebbe essere, per esempio, che magari non hai seminato abbastanza. Quindi ovviamente mai fermarsi, mai fermarsi. Chi si ferma è perduto, chi molla nella vita sono le persone che poi arrivano a X anni e più di tanto non hanno fatto. Quindi chi molla avrà solo rimpianti. Le soluzioni ci sono, basta individuarle e ad avere la forza, la costanza di continuare indipendentemente, nonostante gli impulsi psicologici che abbiamo, le tendenze che abbiamo a mollare, che potrebbe essere anche nella natura umana, ok? Ma se tu prendi la decisione che non molli mai, che continuerai sempre, quindi non usare questa terminologia non mollo, perché non mollo vai a ripetere all'interno della tua testa. Quindi se sei giù, queste sono delle idee per ritornare su e rimetterti subito in carreggiata. Condividi questo video con le persone che conosci, le persone del tuo team, perché ho dato veramente tanto, tanto valore. Se ti vuoi ti puoi iscrivervi al canale Telegram che metterò fra i commenti. Ciao e un abbraccione!